ah vedi cosa ha il primo aggetto ok ok la prosta di merda qual è quello che cacchio devo fare ok quanto sei a fuori uuuh preso la cerina tic 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 3 tic 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 ne ho no rio chiara mia mamma io ti volevo fare tanto buro e morire morta in acqua perchè mu mi stava inseguendo vero m e iu quest'idea al mini no dire no dire no dire no però sto video non va su youtube si è aperto si è aperto bene raga non so la carta no c'è adesso ma è vero sto a me non mi piace momento storico proprio basur ma lo bello sfidu per il portato è che si vede come sto che si vede nelle soluzioni vera? oh Enzo Enzo Nico tua madre eh? ma che è questo rumore? non stai così con il mosso gigante oh guardate rispondi no e ma che è questo rumore? no ancora no sto alla chiede ma se vale tu esi o lo so che c'hai yada ecco l'idea che tu fa aspettata ok zitto zitto ora di sta zitto perché non vuoi chi che non finisce cosa? un attimo solo un attimo un attimo eccola zitto di uttia non fia da te si si in paia de valle da zitto 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 appassi il volume appassi il volume mi è la vita io sto chi ando io sto qui io sto qui io sto qui ci sono qui ma che è un po' la mia E' così stupido che mi passano a vedere se ci fassero sentire. E' così stupido che 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 ci fassero sentire. E' così stupido. E' così stupido. E' così stupido che ci fassero sentire. Allora, ciao. Aspetta solo 5 minuti che sopra sto pezzo e poi salutiamo. Quanto puoi devo andare? Guido. Grazie. 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 Grazie a S사venz. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' così stupido. Grazie a tutti. la sua preghiera di giocare con voi ah che sonno ciao